Ostreopsis ovata è questo il nome scientifico della microalga la cui presenza è stata rilevata nelle acque a 200 metri a sud di Vignola in località Fossolebba a Vasto. Lo ha comunicato al comune l'Arta, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Si tratta di una specie tipica dei climi caldi e tropicali ma negli ultimi anni è presente anche sulle coste italiane per l'effetto dell'aumento della temperatura delle acque. L'Arta ha fatto sapere che l'alga è stata trovata nell'ambito dei controlli rutinari effettuati nel corso della prima settimana di agosto in tre punti di prelievo antistanti lungo Marevastese. La sua fioritura può causare un'intossicazione a cui ci si espone non per ingestione ma per inalazione di aerosol marino. I sintomi sono raffreddore, difficoltà respiratorie e febbre. Da qui la decisione del sindaco di Vasto Francesco Menna di vietare temporaneamente la balneazione e la frequentazione delle spiagge nelle due zone che presentano valori non conformi. Il primo cittadino di Vasto ha evidenziato che l'alga tossica predilige zone rocciose e scogli, dunque tutto nella norma sul litorale di Vasto Marina. Intanto è stato avviato un monitoraggio della situazione collaborando con Arta e altri soggetti istituzionali. Dall'esito delle nuove analisi si deciderà se riaprire alla balneazione o meno.